Ho un cognome che non mi si addice è il titolo del libro scritto da Donenio Grandoni, parroco emerito di Santa Maria di Orciano e pubblicato grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. Ho un cognome che non mi si addice perché innanzitutto non si addice questo cognome alla statura fisica di Donenio Grandoni che è piuttosto minuta ma in realtà si addice alla sua statura morale, un grande uomo, un grande prete contraddistinto soprattutto dalla sua disponibilità verso i fedeli e dalla sua umiltà. A questo proposito vi vorrei leggere alcune righe tratte dalla presentazione fatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Metauro proprio nella pubblicazione di questo libro. Un'occasione per ricordare e festeggiare al meglio il compimento degli 80 anni di un uomo veramente importante e caro a tutti noi per la sua fede, carità, umiltà e umanità. Proprio di questa umiltà che contraddistingue la figura di Donenio scrive anche Don Stefano Maltempi. E Donenio, a tutt'oggi non manca di ricordarmi la frase con la quale ho congedato la piccola assemblea di quella frazione sperduta tra le campagne dell'Oltremetauro. Oggi, quando andrete a casa, date un bacio da parte mia ai vostri bambini. Questo è il mio Donenio. All'interno del volume sono racchiuse le tante omelie scritte e dette da Donenio e corredate da altre tante foto molto significative, tra cui quella che raffigura Donenio con la sua famiglia e i suoi parenti nel giorno della sua prima mesta, il 25 luglio del 1954. La forza delle omelie di Donenio sta proprio nel saper attualizzare il messaggio del Vangelo, renderlo vivo anche e sempre ai giorni nostri. A questo proposito vi vorrei leggere la conclusione di una delle sue omelie intitolata La superbia e l'umiltà. Ora, dopo aver conosciuto quali sentimenti l'uomo può avere, esaminiamoci per vedere un po' a chi assomigliamo, sia al fariseo o al pubblicano. Ricordiamoci bene che se vogliamo essere giustificati, cioè perdonati del malefatto e vogliamo essere aiutati dal Signore, dobbiamo vivere umili perché Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili.